DRAGON AGE INQUISITION DRAGON AGE INQUISITION DRAGON AGE INQUISITION DRAGON AGE INQUISITION Oh madonna santissima Oh mamma mia Che facciamo Tendenzialmente sarebbe da punire Però in effetti Se come dice lui In effetti ha anche fregato in un certo senso da solo Ma sarà un informatore in prova Operazione disponibile Bene Ok non c'è nessun altro da giudicare Andrei adesso a parlare con Josephine Per vedere se finalmente riusciamo a finire La sua infinita quest personale Anzi Vediamo se c'è il tizio delle domande Ormai scusate ma io sono curiosa di capire Il senso di quest'uomo Sì evviva c'è vai Certo che ce l'ho Oh mio dio no Allora Arlatan no Guarnen di sicuro no Dumat no Da chi è stata fondata Forse è questo Colslun Allora vediamo ancora le altre risposte Il nag comune Ma secondo me è questo Colslun Vediamo I believe the answer is Colslun Correct Yes We will continue When I have time And the wind calls me For this Questo tizio non è normale No io voglio altre domande No non mi parla più La tuba di pazzo e popperone Vabbè ritorneremo Prima o poi ci darà qualcosa Io me lo sento Però è possibile sta cosa Ma comunque è indovinato Grandissima È andata più che altra esclusione Però avevo un vago ricordo Di quel nome Ma Wow Josephine è un fantasma La nostra prossima mossa What's the next favor we need To get these two parakets The lordship We must persuade The minister of Belize To ratify the papers She's in charge Of these matters of rank The minister will be at a small fete Prone by the marquis With scott I'll get you an invitation Quindi Entourage ristretta Una disgraziata fortuna Vai al ricevimento del marchese Quindi mi sa che al solito Bisognerà andarci tramite mappa Perché Infatti Una disgraziata fortuna Ok Andiamoci Viaggia Boh Chi ci portiamo Beh è una festa Orlesiana Quindi direi Ci portiamo Cassandra Ci portiamo Vivienne E poi Oddio Nessuna dei tre rog Propriamente Vabbè Andiamo di parte Ah vabbè Li lascia fuori No one cannot shed Thank you for seeing me in private Minister Belize I chastise you for taking me from the party Inclusive But the marquis Through such dull affairs It's hardly worth it I assume you wish to discuss your petition To elevate these two parakets To a minor lordship Tell me Why should I allow you To pollute The orlesian nobility Any further than it's already been muddled Ma i due paraket Erano nobili The two parakets used to be noble You'd be restoring an old house Of Olay Restoring it far too late What are the two parakets now? Traders? Farmers? Really it is too much The very thought causes me pain What can you possibly provide That will make your petition worth my effort? Beh, rapporti fuori or le Diplomatic connections That reach far beyond the boundaries of Valreau Perhaps I might make use of your ambassador The Montilliers aren't what they were But at least they're from proper stock Arrange for me to be introduced to the court of Antiva I hear winter is most pleasant by their sea Very well Inquisitor Should you fulfill this bargain I shall Raise the du parakets into lordship Eh vaa Valreau? Eh valreau sia Ok Josephine Quindi direi che ci teni trasportati E riprendiamo il party di prima Che poverini Ci sono i massimali Che li ho lasciati fuori dal party Soprattutto qui viene Immagina Oh Ora sei al sicuro I'm glad you don't have to live your life Looking over your shoulder anymore I regret we were forced to deal with them That you were endangered by my part in the game Did I ever mention I used to be a bard? You were a singer? Bards entertain the Orlesian courts They sing, play music Make charming conversation And spy Many young nobles put on a mask And practice playing the game in such a fashion Me lo sei diventata What's made you interested in becoming a bard? I was attending a university in Valroyo When I learned about bards There was such an air of romance about them Stories of secrets, trysts and fascinating people A group of us Young gentry from Antifa Decided this exciting life was for us Sembra rischiosa I don't imagine many first born heirs join those ranks No I was a rather foolish exception During one particular intrigue I encountered the bard sent to kill my patron We fought Or perhaps scrapped is the better word Both of us terrified We were at the top of a steep flight of stairs The other bard threw a knife And I pushed him away from me You can imagine the result Ma fu legittima difesa? You were only defending yourself But it was such a waste inquisitor When I took off his mask I knew him We'd attended parties together If I'd stop to reason If I'd used my voice Instead of scuffling like a common thug I'd always wonder who that young man would've grown into Come cambiò la tua vita? From the bard to the diplomat Is quite a change in direction I was headed down that path for some time already That night merely crystallized it In all the commotion Forgive me I don't believe I ever thanked you for helping me with this Hai salvato i Montilier Hold on to it Don't lose sight of why you came here I will never forget You helped save the house of Montilier Inquisitor And should you ever visit Antiva Stories of the welcome will give you Will be told for years Evviva party Facciamo festa Allora Già che ci siamo Mettiamo qua i punti XP Ai nostri balli Compagni Allora Lei Cos'è che prendeva? Allora Lei Arma e scudo E poi mi pare No Scusate Condottiero e full Non so se provare a prenderle qualcosa da templare Intanto ero curiosa di sbloccarle almeno questa Allora Qui a purga magica Grazie a fede e volontà Dissolvi tutta la magia nemica Nell'area che ti circonda Lame benedette Inciti tutti gli alleati vicino a te A lottare con maggiore forza Soprattutto contro i demoni Questa mi piace Vai Cerchiamo di arrivare almeno a prenderle questo Così almeno anche lei può usare l'abilità del focus Ok Mi la metto in barra Ma no Tanto lo userai in automatico Mi viene a due punti Continuiamo qui sul cavaliere incantatore Direi che le potenziamo quello che aveva già Le potenziamo Il campo di scissione con blocco statico I nemici nel campo di scissione Vengono rallentati fino a fermarsi nel giro di qualche secondo Colpirli termina l'effetto In realtà l'epo non lo uso mai perché È un po' difficile da gestire in effetti Però ero curiosa di vedere il cavaliere incantatore Poi le potenziamo lama spirituale Con la lama spirituale devi i proiettili in arrivo Scagliando un'onda d'urto Scusate contro l'aggressore Fico E poi Varric Lui era un artificiere Lui è un artificiere E gli potenziamo Lancia tutto Ora mai più Usi tutto il tuo vigore per disseminare il campo di battaglia di trappole Più vigore usi, più trappole lanci Ok Ma Gwen ha anche livellato? No, non mi sembra No, infatti Già che siamo qua Direi che andiamo a Finire di acquistare I vari Abbellimenti per lo Skyhold E poi torniamo a casa Chissà se poi Josephine avrà altro da dirci Proveremo a vedere un po' Questo è un vento Ed era tipo qua, mi pare Sì Ok, di soldi ne abbiamo Dovremmo riuscire a prendere tutto Bomba, yes Ok Oh, missione completata anche tende Torniamo a Skyhold Niente Oh, me l'hanno detto Qualcosa da riferire Vabbè, solita cosa Arrivederci Boh, non saprei È un po' che non chiacchieriamo anche con gli altri Proviamo a vedere un po' Varric secondo me non ha niente da Ma in realtà non credo ci sia niente di aggiornato Proviamo Andiamo Solas Senza contare i demoni And calling the army of demons That's my favorite part The demons are nothing They're a tool A tool that gives Corypheus an army That's not the point Even if they could succeed The entire idea is wrong The blight is not something one smugly outsmarts Forgive me The entire idea is Unnerving You have begun practicing new magical forms Interesting You seem to be drawing upon the raw substance of the Fade Likely using your mark as a catalyst I use similar techniques Although it took me years to learn them Why did you choose such an esoteric area of study? Volevo imparare I hope that studying such magic would help me better understand the Fade While our fight affords little time for formal study The wise can better themselves even in the midst of battle Perhaps a special event I hope your new studies serve you well Did you need anything else? Indaghiamo Niente Non credo ci sia Allora Nient'altro da dire Anche con gli altri Vediamo se c'è qualche Oh Ah Quanto sclammato io Uh Ok Come hanno detto Allora direi che ci teletrasportiamo Qui Andiamo a parlare Col toro di ferro Allora beviamo qualcosa Come vuoi che ti chiami Do you prefer Krem Or Kremisius Krem's faster The chief's nicknames usually end up sticking Hey When I was growing up My name was just this series of numbers We all give each other nicknames under the cune They ever wear shirts under the cune, chief Or do they just run around binding their breasts like that It's a harness Krem Yes For your pillowy man-bosoms Let me know if you need help binding You could really chisel something out of that overstuffed look Oh Scusami In che senso sei una donna? Eh? Perché ti spacci per uomo? Eeeh Sei una donna? Scusami 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 Madonna mia Perché non ci ho pensato? Sono una stupida E' doppiato da Jennifer Hale Che è la doppiatrice della shepherd femmina Giustamente E' motivato Bravissimo tra l'altro Fighissimo vai Krem Mi piaci Di dove sei Roccia Scusami Were you born on the surface Or are you from Orzammar? Orzammar I got exiled Stupid noble crap Also I Accidentally blew up a bit of the shape rape Rocky's one of our best sappers He can take down enemy fortifications faster than a golem I'm also working on my own version of Kunari black powder I've Almost got it Yeah You really don't Perché hai lasciato i Dalish? Certo, perché io non sono un'elfa maga Dalish, assolutamente no, chiaro. Tu sei un guaritore, pezza. No! Fantastico. Come sei finita qui, pelle? Che mi racconti, truce? Che mi racconti, truce? Sono impressionata. Tu hai un buon compagno, Bull. Ah, noi facciamo bene. No man can beat the Chargers, cause we'll hit you where it hurts. Unless you know what's happened with his cards and loser's skirts. For every bloody battlefield will gladly raise a cup. No matter what tomorrow holds, I won't be pointing up. Thanks for coming by, boss. Glad you could meet some of my team. Vabbè, vediamo se ci dice altro. Indaghiamo. Parlami dei tuoi soldati. Come è nato il gruppo? Come è nato il gruppo? Come è nato il gruppo? E il pescatore? Siete un gruppo variegato? Parlami di Krem. E il fatto che è una donna? E il fatto che è una donna? Ma tu detesti il Tevinter? Qualche aneddoto interessante? Fatto d'esca per un gigante? C'è una donna? Vi lasciaste seguire? E' ok, però, siamo ancora pagati. Vediamo se dice altro. Parlami del Saharan. I guerrieri delle nebbie. Sembri quasi ammirarli. Parlami del Talvashot. Non dovresti esserlo anche tu. Parlami del Tevinter. Parlami del Tevinter. Parlami del Tevinter. Perché detestite Tevinter? è una tv del Saharan poi cosa accadde? ok finito col toro di ferro direi che facciamo anche quattro chiacchiere con Krem parlami un po' di te perché spacciassi per uomo? la tua famiglia come l'ha prese? la magia potrebbe cambiarti? fantastico come si vive nel Tevinter? come ci riuscirono? chi li comprava? perché te ne sei andato? come hai fatto a fuggire? fingersi uomo illegale? arrivederci mi piace mi piace Krem direi che adesso invece ce ne possiamo andare verso il tavolo da guerra eccoci qui arrivati vediamo subito cosa ne ha combinato i nostri consiglieri iniziando da gli archivi di Monfort i miei agenti hanno trasferiti i miei agenti hanno trasferito ciò che hanno ritenuto importante dall'abbazia in un deposito di Ghislaine se i ladri arriveranno anche lì significa che sono davvero pieni di risorse la badessa la badessa è rimasta molto contenta e ci ha fatto scegliere alcuni oggetti come ricompensa l'eliana pomolo bilanciato pregiato ok poi la serpe di Nevarra inquisitore devo ammettere che quando la vostra ambasciatrice chiesto udienza per parlarmi di Virelius non ero del tutto convinto infatti non mi curavo delle prove nemmeno dopo che mi sono state sottoposte ma quando uno dei vostri maghi l'eretica di nome Sidoni è riuscita a diradare le nubi che offuscavano la mia mente ho compreso il maleficio che mi affliggeva Virelius è stato imprigionato ed ora innanzi staremmo attenti ai futuri tentativi di manipolazione da parte di questi fanatici Nevarra vi è immensamente grata Re Marcus Pentagast e vai è andata bene quindi abbiamo guadagnato influenza e un bastone vai e poi rimaneva sollevare il morale Comandante qui vi sono tutti riconoscenti per il nuovo cuoco un buon pasto fine giornata è proprio quello che ci voleva ora a cena si viene a creare una piacevole atmosfera di convivialità all'accesso disponiamo di risorse limitate ma il cuoco è un vero prodigio l'altra sera ci ha servito uno sformato di pesce uova gli abbiamo mandato Gordon Ramsay fondamentalmente non ne mangiavo uno dei tempi di Portobrullo a volte sono le piccole cose come queste a ricordarci perché stiamo combattendo e poi alto capitano Rylan influenza molto bene molto bene vediamo un po' un battaglione per sera a Verchiel Comandante abbiamo verificato le dichiarazioni di sera riguardanti Verchiel alcuni trasferimenti di profughi erano effettivamente intenzionali e miravano a destabilizzare gli equilibri locali mi sentirei di sconsigliare un coinvolgimento dell'inquisizione ma è pur vero che una nostra maggiore presenza potrebbe avere effetti inaspettati ad ogni modo non ci costerebbe nulla inviare delle truppe in città tenente Estiel Cullen faremo in modo che la nostra marcia non passi inosservata vai poi cosa abbiamo qua supporto da Nevarra una lettera consegnata a Skyhold innanzitutto desidero congratularmi con l'inquisizione a nome della famiglia Forsitia per le vittorie conseguite il tetas meridionale è stato il più colpito ma le recenti tragedie riguardano tutti la vostra opera di chiusura degli squarci e di stabilizzazione del sud ha avuto effetti benefici anche qui la casata Forsitia si schiera a fianco dell'inquisizione siamo ansiosi di incontrare i vostri rappresentanti per ufficializzare l'alleanza da Tyrion Veneto per conto di sua grazia duchessa Amalia Tyrion oh mio dio un Lannister Segue il messaggio di Josephine quella dei Forsitia è tra le maggiori casate nobiliari di Nevarra se le altre famiglie aristocratiche si sono divise tra chi sostiene la dinastia Pentagast e chi vorrebbe trasferire la colonna a un'altra casata i Forsitia sono rimasti neutrali ciò nonostante dubito che la loro offerta sia un puro moto di generosità un'alleanza con un'organizzazione potente e ramificata come la nostra presenta vantaggi evidenti dal canto nostro guadagneremo dei preziosi alleati a Nevarra senza dover esporci politicamente Josephine Leliana dice i Forsitia sarebbero più generosi se sapessero che abbiamo certe informazioni sulla loro famiglia Callen avrebbe detto corre una dimostrazione di forza inviamo un delegato scortato da quartier armate Josephine dimostriamoci amichevoli mandiamo dei rappresentanti e discutere le modalità del loro eventuale supporto questa mi piace ma a sto punto vediamo anche cosa far fare a Leliana in caso a giudizio recupera i manufatti venduti cioè quello che abbiamo sbloccato in inizio puntata Service il membro dei venatori che dopo la cattura si è offerto di aiutare l'inquisizione ci ha dato una dritta sulla posizione di alcuni antichi manufatti magici che aveva spedito l'accesso occidentale afferma di aver bisogno di una piccola squadra di aiutanti e un po' di denaro al fine di recuperarli per conto dell'inquisizione l'Eliana non possiamo fidarci di lui e lo sa diamogli pure aiutanti che chiede ma facciamogli seguire da una spia Callen avrebbe detto posso inviare i miei soldati da aiutare questo mago così lo terrebbero d'occhio oppure Josephine sembra troppo orgoglioso per ingannarci senza prima dimostrare il proprio valore diamogli quello che chiede con ragionevolezza alla fine comunque anche quello che dice lei ma almeno lo fa controllare dai mandiamo l'Eliana qui e invece Josephine la mandiamo in supporto a Nevarra perfetto ok io direi che con questo chiudiamo questa puntata e vi anticipo già che nella prossima finalmente andremo avanti con la missione principale e andremo a fare la quest qui si trova l'abisso con Oak e Stroud quindi in attesa di vedere cosa succederà vi ringrazio per essere stati con me e vi saluto alla prossima adesso andiamo avanti e salviamo il Tedas ciao ciao ciao